Noi esseri umani abbiamo il dono della parola e pensiamo che grazie ad essa possiamo gestire tutte le relazioni. Per esempio, se volessi comunicare affetto ad una persona, terrei un tono di voce pacato e tranquillo, ma se invece volessi comunicare una mia imposizione o comunque una mia idea, tenderei ad alzare il tono di voce. Queste due modalità in realtà sono accompagnate da gesti e movimenti che non fanno altro che dare ancora più significato quello che io sto dicendo. Questo ci permette di dire che in realtà non vale ciò che diciamo ma ciò che facciamo. E questo vale anche per i nostri cani che sono degli attenti osservatori e sembrerebbe che degli studi diano al cane la priorità del linguaggio verbale e non verbale. Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog ed oggi parliamo proprio di come comunicare con il cane. Nello specifico, nel video di oggi daremo importanza alla comunicazione non verbale. Educatori cinofili e proprietari di cani che si innescano nel processo di educazione dei propri cani o dei cani di altri clienti devono sin da subito entrare nella modalità comunicativa del cane che è fatta di posture, di sguardi, di atteggiamenti, di velocità, di cambi di direzione e anche dell'uso delle distanze. Come puoi vedere il linguaggio del cane è veramente basato sull'uso degli spazi e sulla mimica corporea. È sicuramente un processo difficile da acquisire e da apprendere e soprattutto da fare nostro. Ma ti assicuro che una volta che entrerai in questa concettualità capirti con il tuo cane sarà veramente un gioco da ragazzi. La modalità che io insegno sia ai miei allievi che anche ai miei clienti è quella quando stanno facendo lezioni di non guardarsi assolutamente in faccia ma di osservare esclusivamente il cane. Questo ti permette di esercitare minuto per minuto la lettura del cane e sul modo in cui comunica con l'esterno e soprattutto nelle interazioni con gli altri cani e con le persone. Se alla lettura del cane e all'osservazione entrerai nel concetto che vale ciò che si fa e non ciò che si dice e in questo il cane è un grande maestro. Per farti capire quanto è bravo un cane a comunicare ti voglio raccontare un'esperienza personale che ho vissuto durante un campionato del mondo di utilità e difesa. In queste prove ci sono anche le prove di obbedienza che prevedono l'impartizione di comandi per assumere le posizioni a distanza. In questo caso il mio cane doveva assumere da 50 metri la posizione di terra. Io gliel'avevo insegnata con un movimento delle mani e accompagnata al comando verbale in modo tale che potesse assumere la posizione in maniera chiara. Perfetto, in quella gara il cane non acquisì la posizione che gli avevo richiesto. È fondamentale era per un motivo. Accompagnato al gesto delle mani avevo anche accompagnato un gesto impercettibile della gamba. Questo gesto fece sì al cane di non capire che cosa io gli stessi chiedendo e quindi non assumere la posizione. Ovviamente questo mio errore non lo vidi subito ma lo vidi nel tempo rivedendo i video della gara. Perfetto, a causa di quel gesto io perdetti una competizione internazionale. Questo ti fa capire che ciò che io feci in quel momento aveva più valore di ciò che io dissi a livello verbale. Ci sono degli studi che dicono che i segugi siano i cani più attenti ai gesti. Per esempio, se vogliamo richiamare un segugio è molto probabile che al suono della parola non risponda ma che sia più probabile che risponda magari allontanandoci e chiamandolo con un gesto della mano. Se avrai già un risultato in questa prima sessione prova a sviluppare questa tipologia di esercizio durante la quotidianità e ti accorgerai che anche se un segugio è poco attento ai segnali verbali sarà molto attento ai segnali non verbali e quindi a quelli gestuali e ti seguirà in maniera molto molto veloce. Questo deve essere un esercizio fatto quotidianamente per esempio durante la passeggiata, durante un'interazione in giardino. Prova anche ad abbassarti e a far sì che il cane venga verso di te. Per imparare questa tipologia di comunicazione ci vuole esercizio e dovrai fare esercizio con il tuo cane per imparare ad osservarlo e per imparare a capire quali saranno i gesti che lui tenderà ad ascoltare per venire da te ad una tua richiesta di richiamo. Il tuo video serve a farti capire che il cane è un attento osservatore dei nostri movimenti e che i suoi comportamenti sono proprio guidati in base a quello che facciamo e nemmeno a quello che diciamo. Devi abituarti ad abbassare il tuo livello di comunicazione e cercare di adempiere i tuoi doveri di proprietario collegandoti con la comunicazione che è caratteristica del cane e quindi gesti, posture e anche movimenti. Spero di esserti stato utile e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube e di seguire i nostri corsi sul sito www.affinitydog.it. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog.educazionecinofila.